Eccoci in treno di ritornare da Roma verso il mio spedio Piemonte, ma so già che domenica 19 sarò di nuovo in viaggio per andare a Napoli, alle 12.30 Giorgia Meloni concluderà un corteo di Fratelli d'Italia con un polizio in piazza Matteotti. Vi aspettiamo per raccontarvi l'Europa che vogliamo, che è quella che difende la polizione, difende i confini, rilancia il piano natalità per contrastare la curva della denatalità, cioè tutta un'altra Europa. Piemonte, non c'è un'altra Europa, non c'è un'altra Europa, non c'è un'altra Europa